In questo video parleremo del bibi di chioggia e vi mostreremo una delle splendide catture che ci può regalare. Muniamoci di un ago innescatore ad occhiello, di un buon fluorocarbon 0.30, di un amobic numero 1 e procediamo nel seguente modo per avere un innesco vivo. Facciamo entrare l'agua ad occhiello nella parte bianca, facendolo uscire dal foro anale situato appena prima della fine del verme, evitando quindi di bucare parti vitali e di conseguenza la perdita del liquido al suo interno. Infiliamo la lenza nell'occhiello e trasferiamo il nostro verme sul filo, facendolo scorrere fino al raggiungimento del lamo, che posizioneremo poi, con cura, all'interno del bibi. Ecco un innesco corretto del famigerato bibi di chioggia, libero di muoversi con naturalezza. Rimani con noi per vedere la splendida cattura che ci ha regalato e iscriviti al canale donandoci il supporto di cui abbiamo bisogno. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!